Euroregione News Friuli Formazione trasloca in Confindustria. Il Consorzio Friuli Formazione festeggia i suoi vent'anni con un trasloco. La nuova sede sarà lo storico Palazzo Torriani di Udine, quartier generale di Confindustria e uno dei soci del Consorzio. Ci siamo sempre occupati di alta formazione e questo non è un semplice trasloco, commenta il direttore del Consorzio Andrea Giacomelli. Non è una soluzione solo di logistica, ma è un'alleanza strategica per offrire servizi di formazione, di qualità, di alto livello, utilizzando le competenze e le capacità dell'Università di Udine da una parte e dall'altra la diretta relazione forte che ha Confindustria con le imprese sue associate. Vivere e condividere quotidianamente il lavoro insieme ai colleghi di Confindustria facilita la progettazione. Per finanziare le attività Friuli Formazione punta ai fondi interprofessionali come il Fondo Impresa che ha molte risorse e a differenza di altri canali sempre più esigui, progetto a corsi formativi di portata nazionale, euroregionale ed internazionale e forse un forum permanente di cultura imprenditoriale. Così Marina Pittini, vicepresidente di Confindustria Udine, condelega la formazione. Arricchiamo la formazione in casa, riusciamo a dare sostanza alle parole di razionalizzazione e di sinergia. La formazione anche sta molto soffrendo, per cui si tratta di mettere a fattore comune le competenze e di offrire qualcosa molto in più a tutti i nostri associati. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionews.eu